Ok, bentornati o benvenuti a Next Code Generation, oggi parliamo di Spring Data con Raffaele Auriemma. Ciao Raffaele. Ciao Marco, buonasera a tutti. Io sono Marco Maddiona e gestisco la community di Next Code Generation. Cos'è Next Code Generation? È un'iniziativa nata da un'idea di CSMT Polo Tecnologico e alcuni dei suoi partner, tra cui l'Università di Studi di Brescia, Adaris Vision, Codice Plastico, 4Solid, Gexel, Gamma Industries, PQ Quadro, Talent Garden, Toplus e Tremio Informatica. È una community che si riunisce una volta al mese. Attualmente siamo solamente online, abbiamo fatto anche degli incontri fisici e l'obiettivo quello di condividere le nostre competenze in ambito sviluppo software o comunque diciamo tecnologie affini, al fine di creare sinergia e eventuali rapporti che potrebbero contribuire alla crescita di tutti. Sul nostro sito nextcodegeneration.it potete rimanere aggiornati su tutti i nostri eventi e trovate anche gli eventi precedenti, così come sul canale CSMT Gestione, sul canale YouTube ci sono tutte le sessioni registrate fatte finora e poi sui social nextcodegeneration.it lo trovate sia su Facebook che su Instagram per rimanere ovviamente aggiornati. Vi rugo qualche minuto per parlarvi della nostra nextcode challenge. È una sfida di programmazione dove si può partecipare singolarmente a squadre, si può utilizzare qualsiasi linguaggio di programmazione e viene stilata e costantemente aggiornata una classifica che si chiuderà con l'ultimo incontro del 2021. Attribuiamo un punto per ogni soluzione corretta che riceviamo, tre punti per il secondo e il terzo posto e cinque punti per la soluzione migliore. La valutazione si basa sulla correttezza del risultato, l'efficienza dell'algoritmo, lo stile di programmazione, l'originalità della soluzione e la presenza dei commenti. Anche quest'anno, come l'anno scorso, il vincitore si aggiudicherà un abbonamento annuale a Pluralsight, una piattaforma di corsi molto utile. Questa è la challenge precedente che trovate ovviamente sul sito per scaricarla. non ci sono stati, diciamo, vincitori, quindi la challenge rimane aperta, quindi la classifica rimane attualmente invariata. E questa è la challenge numero cinque. Una formica si trova su una griglia di caselle colorate di bianco o nero. La griglia ha dimensioni infinite. La formica è sempre orientata in una delle direzioni cardinali, sinistra, destra, su o giù e si muove da una casella alla successiva secondo le regole seguenti. Se si trova su una casella nera, la cambia in bianca, ruota di 90 gradi in senso antiorario e si muove in avanti di una casella. Se si trova su una casella bianca, la cambia in nera, ruota di 90 gradi in senso orario e si muove in avanti di una casella. Iniziano dalla griglia completamente bianca. Quante caselle nere ci saranno dopo 10 alla 18 mosse della formica? Non preoccupatevi, non dovete prendere appunti, se siete interessati, riceverete una mail contenente il test della challenge e le informazioni per partecipare, che sono le seguenti. Basta mandare una mail a challenge.nascolageneration.it in oggetto il numero della challenge in cui state partecipando, nel corpo della mail chi ha partecipato alla challenge, il linguaggio utilizzato e il risultato. Ovviamente come allegato obbligatorio dovete fornire il codice del programma, altrimenti non verrà accettato il risultato. Se volete rimanere aggiornati potete aggiungere in rubrica il numero 371 168 8930, scrivere su Whatsapp Nextcode On e riceverete tutte le news relative a Nextcode. Vi informo che il prossimo talk sarà il 29 novembre, sempre alle ore 18, e si parlerà di metodologia agile PM con Azure DevOps, assieme a Gianni Bossini di Codice Plastico e Gattano Paterno di Blacksy. Segnatevi l'appuntamento, ma anche qua poi riceverete l'invito direttamente per email. Io ho finito con la mia parte introduttiva, lascio quindi la parola adesso a Raffaele. Ok, grazie Marco, condivido io lo schermo. Vai. Visualizzate? Perfetto. Ok, innanzitutto grazie per l'invito. Oggi parleremo quindi a un'introduzione di Spring Data, vedremo cos'è, come si usa, quali sono le sue caratteristiche principali, quali sono i contesti di utilizzo, vantaggi e svantaggi e pro e contro di questo framework. Innanzitutto mi presento, sono Raffaele Auriemma, solution architect di TeamCopen, specializzato in ambito Java, soprattutto in contesto enterprise. Partiamo. Capendo cos'è Spring. Facciamo un passo indietro quindi, da Spring Data che è un modulo di Spring, cerchiamo di capire quali sono i vantaggi e le peculiarità di Spring per approfondire e capire meglio poi Spring Data. Spring è un framework open source, lo sviluppo di applicazioni su piattaforma Java Standard Edition e Enterprise. Quindi, malgrado Spring sia noto, soprattutto in ambito Enterprise, è possibile fare applicazioni anche Standard Edition con Spring. Semplifica lo sviluppo di applicazioni Java promuovendo l'uso di best practice di progettazione secondo un modello pojo based, con plain old Java object, per internerci a un modello alternativo a Enterprise Java Bino e altri tipi di framework. Andiamo un pochino alla version history di Spring. Spring nasce come allegato a un libro della serie Expert 1 to 1, J2E Design and Development nel 2002. riscuote un discreto successo, come allegato a questo libro, tant'è che l'autore Rod Johnson decide poi di rilasciarlo come progetto open source in una community dell'anno successivo nel 2003. Dopo ancora un anno, il 2004, grazie appunto alla comunità, sviluppano la versione 1.0, quindi la prima versione stabile di questo framework. A partire dal 2004, come potete notare dal diagramma, ogni 3-4 anni mediamente viene rilasciata una nuova versione. Come potete vedere, sono già circa 20 anni che viene sviluppato questo framework, quindi cosa ci dice questo? Che è un framework molto solido, molto maturo, negli anni è cambiato molto. Sono state così tante versioni in questi anni perché cerca sempre comunque di seguire i trend di mercato, quindi ogni volta che una tecnologia, un nuovo framework si attesta, un nuovo protocollo viene utilizzato, Spring di solito produce o degli add-on al suo framework oppure dei moduli dedicati che comunque possiamo utilizzare. Vediamo le caratteristiche principali di Spring. Come abbiamo detto, è il più popolare framework per sviluppo di applicazioni Java Enterprise, non è l'unico, ma è sicuramente il più popolare in ambito Java, e una valida e solida alternativa al modello basato su Enterprise Java Bean. Di fatto possiamo fare tutto quello che possiamo fare con Enterprise Java Bean, e ovviamente molto di più, senza avere alcuni dei svantaggi che questa tecnica di programmazione ci dà. Ad esempio, si interprete Java Bean, un problema noto è quello di dover comunque lottare con le interfacce locali, remote. Ci sono delle particolarità che ci rendono più semplici a sviluppo grazie a Spring, ma li vedremo più avanti. Spring supporta i descrittori di deployment con XML, annotazioni o programmati, questo che vuol dire che noi possiamo descrivere il deployment di Spring in tre modi diversi. Tre modi equivalenti, possiamo dire ognuno ha i suoi pro e i suoi contro, ma possiamo ottenere lo stesso obiettivo, lo stesso risultato di configurazione con tutti e tre. Molto cambia un po' dalle preferenze personali, dal contesto e dal tipo di progetto che bisogna affrontare. Spring poi introduce degli innovativi modelli di programmazione, che è stato un pochino anche il suo punto di forza, che nel 2002 gli ha dato il là a essere conosciuto più nel mercato, che sono ad esempio l'aspect oriented programming, l'IOP, o l'inversion of control pattern, che vediamo nelle prossime slide comunque. È un framework leggero, grazie alla struttura estremamente modulare, questo è un altro dei suoi grossi punti di forza, estremamente leggero e veloce da tirare su, è molto semplice integrare i libri di terze parti, e come abbiamo detto è estremamente modulare, quindi è molto semplice aggiungere moduli o eliminarli, quindi usare solamente la parte core di Spring. Ma un approccio semplificato è più comuno i problemi di sviluppo, problemi di sviluppo che incontriamo in ogni tipo di applicazione, che può andare dall'accessato a base, può essere la gestione delle dipendenze, o addirittura la gestione delle transazioni, cose che comunque dobbiamo semplificare in ogni modo con questi framework. E un'altra cosa molto importante è che Spring ha un approccio incentrato al testing, cioè è testabile by design, è stato costruito ogni suo componente, già pensando che comunque abbiamo bisogno di testare queste componenti e di automatizzarle il più possibile. Questo è un grosso punto di forza anche quando ci dobbiamo trovare a costruire delle test suite dedicate. Con Spring tutto questo è già stato pensato prima, e di fatto ci semplifica molto e velocizza questa fase di sviluppo. Qui vediamo un diagramma del modulare dello struttura core, diciamo solo del modulo core di Spring, quello di base. Nel modulo core abbiamo tutte le componenti principali, quindi il core container, che di fatto è l'IoC container, l'Inversion Core to Container, la parte principale, il cuore dell'applicativo, con la gestione dei bin, la gestione del contesto, abbiamo l'IoP, l'aspect oriented programming che abbiamo detto prima, l'istrumentazione, il messaging, tutti gli aspetti comunque comuni nelle applicazioni, soprattutto Enterprise di Java. Abbiamo il supporto a JDBC per la connessione al database diretta, l'RM quindi la mappatura di oggetti e relazioni. Vedremo più avanti, visto che trattiamo di Spring Data, quindi per l'accesso ai dati, è una parte del modulo molto utilizzata. L'XM per la traduzione, il mapping dell'XML, GMS, transazioni, tutta la parte web più comune, quindi il supporto a servlet e portet, ma anche alle più recenti WebSocket. Ma soprattutto, se vedete in basso nel diagramma, tutti questi moduli trasversalmente sono supportati per il testing, quindi ogni modulo di Spring è comunque già stato pensato per essere testato. Qui vediamo solamente alcuni dei moduli aggiuntivi di Spring, ma sono davvero tantissimi. Spring Data, quello che vedremo stasera nel dettaglio, anche Spring Cloud, per l'utilizzo dei microservizi, o anche Spring Cloud Dataflow, per l'orchestrazione dei microservizi. Spring Security, molto utilizzato per la gestione di autenticazione, anche autorizzazione, supporta praticamente tutti i protocolli più conosciuti, Oout2, SAML, Spring GraphQL, ho visto che c'è stato un altro talk su questo tipo di API, le GraphQL. Come vi dicevo, Spring, quando vede che c'è un protocollo, comunque una tecnologia molto utilizzata sul mercato, la ingloba all'interno di FireMock, e in questo caso ne crea un modulo dedicato, Spring Session, ma sono veramente tantissimi. Li trovate tutti al link che vi ho indicato, spring.io.projects, trovate tutti i progetti e tutti i moduli di Spring. L'idea quindi di Spring è di utilizzare questo framework in maniera omnicomprensiva. Utilizzando il framework, solo per il coro, con moduli aggiuntivi, abbiamo sempre un modulo, o comunque un progetto, che supporta ogni aspetto della nostra applicazione, quindi ogni esigenza che noi abbiamo. Iniziamo con i pro. Quali sono i pro di Spring? Ce ne sono tantissimi, ovviamente, come potete immaginare, ma vediamone qualcuno, almeno i principali. La flessibilità e la modularità. Spring la sciampia libertà allo sviluppatore riguardo al percorso da seguire per arrivare al risultato desiderato. I vincoli da rispettare sono veramente pochi. Spring rispetto ad altri tipi di framework è molto poco rigido. Altri framework, magari ci diano tante funzionalità e tante facilitazioni nello sviluppo spesso ci restringono nell'utilizzo di alcuni strumenti o nelle scelte da adottare durante lo sviluppo e la programmazione. Ma Spring non è così. Spring ci dà davvero tanta libertà nella scelta. Lo stesso risultato posso ottenerlo in modi diversi, attraverso moduli diversi o con tecniche diverse. Tutto questo comunque supportato dalle sue funzionalità, dalle sue mobili, dalle sue librerie. L'elevata testabilità lo dicevamo poco fa grazie alla dependency injection che vedremo più avanti, possiamo ottenere un'elevata testabilità dei singoli componenti e dell'applicazione. Quindi come dicevo, ogni componente scritto da noi è sempre testabile, anche quando era edita o utilizza librerie terze parti. Una community molto numerosa. Gli appassionati professionisti che ruotano attorno a questo mondo sono tantissimi. Ognuno pronto a dare il suo contributo in termini di nuove funzionalità, tra testing e bug fixing. Di fatto quando un bug viene riscontrato in una nuova versione di Spring, le release del bug fixing sono sempre molto veloci, proprio perché c'è una comunità molto numerosa che lo supporta. Anche la comunità dei blogger è molto attiva e fornisce un supporto importante con numerose guide e tutorial. Questo è un punto molto importante perché spesso, magari ci sia comunque una documentazione ufficiale molto completa di Spring, lo vedrete. Anche il supporto della comunità, dei blogger con guide e tutorial ad hoc su contesti molto specifici che ovviamente non possono essere coperti dalla documentazione ufficiale. Sono molto numerosi, troverete spesso, magari per uno stesso problema su contesto di nicchia, magari anche 3-4 guide diverse o tutorial che vi spiegano come fare, magari anche con modi diversi, quindi con soluzioni alternative. Vediamo anche qualche contro del framework. Abbiamo visto qualche pro, ma qualcuno dei vantaggi possono trasformarsi in svantaggi in alcuni casi. Uno dei contro è ad esempio la documentazione che è molto estesa e a volte dispersiva. A volte risulta faticoso districarsi nel mare di informazioni disponibili, può capitare di perdersi prima di trovare la risposta ai nostri dubbi. Come vi dicevo prima, c'è una documentazione molto completa, ma anche molto estesa e questo, soprattutto, magari se non si ha molta confidenza con questo framework, può diventare un contro. Posso magari dubitare di trovare la risposta adatta o magari faticare molto a trovare il dettaglio o la funzionalità che stavo cercando. Un altro dei vantaggi che si può trasformare in svantaggi è l'eccessiva flessibilità. La possibilità di implementare soluzioni in maniera differente, a volte disorienta soprattutto negli sviluppatori che non hanno tanta esperienza. In più, in una situazione potremmo avere l'impressione di non aver utilizzato qualcosa in modo giusto. Come dicevo prima, avendo tanta libertà di programmazione in questo framework, potendo fare le stesse cose in tanti modi diversi, potrei avere il dubbio di averla fatta nel modo migliore. Ovviamente questo dipende dal contesto, dipende dalla necessità dei requisiti, ma soprattutto anche dall'esperienza e dalla sensibilità dello sviluppatore. Quindi ciò che in realtà è un pro, in alcuni casi, soprattutto su team non molto maturi, può rivelarsi un contro. Un altro contro è la configurazione complessa. Benché esistono differenti modi di configurare gli elementi del framework, ne abbiamo citati prima con XML, con annotation, con Java config, quindi con dei scrittori XML, oppure con delle annotazioni del codice, o anche proprio con delle classi Java dedicate per la configurazione, lo sviluppatore inesperto finirà per avvertire un certo senso di frustrazione di fronte alla moda di linea di codice necessaria a predisporre anche il più semplice dei progetti. Questo è vero, se utilizzo Spring, solamente il core, poi vediamo più avanti come possiamo migliorare questa situazione, devo scrivere davvero tanti metadati, tanta configurazione, prima che il progetto sia B, devo definire le transazioni, devo definire in che modo viene avviato, una serie di parametri di configurazione necessari, senza parlare poi della configurazione del server su cui gira, che sia SO, Tom, che J-Boss, WebSphere, comunque c'è tanto da configurare prima di vedere il primo startup, il primo Hello World, e questo a volte può risultare un contro. Parliamo dell'inversion of control partner, l'abbiamo citato prima, e il principio architettorale su cui si basa praticamente tutta l'architettura di Spring. In pratica si inverte il flusso di sistema rispetto alla programmazione tradizionale. Nella programmazione tradizionale lo sviluppatore definisce la logica di flusso di controllo specificando le operazioni di creazione, inizializzazione degli oggetti e invocazione dei metodi. Chiunque abbia fatto un programma in Java sa bene questo, devo definire tutti i metodi, quando e come vengono invocati, devo creare gli oggetti e preoccuparmi di inizializzarli nel modo corretto. tutte le volte che questi oggetti ne hanno bisogno. Nell'inversion of control pattern si inverte il control flow, facendo in modo che non sia lo sviluppatore doversi preoccupare di questi aspetti, ma sia il framework. Quindi definisco i miei metodi, definisco la mia business logic, ma di fatto con Spring non so neanche esattamente dove venga richiamata. So che lo farà se ne occupa il framework, dichiaro gli oggetti che mi servono, ma no, non devo definire esattamente come vengono inizializzati. adesso vediamo adesso come lo fa più nel dettaglio poi Spring. Questo è un principio che in quest'ambito viene conosciuto anche come Hollywood principle, cioè non chiamarci, ti chiameremo noi. Appunto come dicevo poco fa, io definisco le mie logiche, ma non so esattamente dove vengo richiamata, non devo neanche definirlo io, è il framework che richiamo i miei metodi, i miei oggetti quando è necessario. Dependency Injection questo è un altro termine che si sente spesso quando si parla di Spring o di Inversion Home Control. Il termine Dependency Injection è di fatto utilizzato per riferirsi a una specifica implementazione dell'IoC, cioè l'IoC è il pattern e la Dependency Injection è la implementazione che Spring usa per questo pattern. Dependency Injection inverte il processo di risoluzione delle dipendenze facendo in modo che queste vengano iniettate dall'esterno. Per intenderci Spring implementa l'IoC tramite Dependency Injection. Dependency Injection prevede che tutti gli oggetti all'interno della nostra applicazione accettino le dipendenze, ovvero gli altri oggetti di cui hanno bisogno tramite costruttore o metodi setter. Quindi fatto io costruisco il mio oggetto poi vedremo qualche esempio più avanti del codice per essere più precisi e più chiari, ma definisco i miei oggetti non definisco la loro inizializzazione, magari tramite una azione definisco di che tipo è ed è poi il framework che tramite o il costruttore o un metodo setter, questo possiamo sceglierlo noi, è una delle alternative che abbiamo, inietta poi la logica, l'istanziazione dei miei oggetti. Spesso in Java classico senza utilizzare dei framework ci avvaliamo noi dei pattern per fare questo, non so, ad esempio le factory. Beh, in Spring non abbiamo bisogno di tutto questo, non dobbiamo né preoccuparci di farlo noi né scegliere il pattern giusto, perché c'è già la Dependency Injection che si occupa di questo. Un altro concetto importante in Spring che viene utilizzato poi di riflesso anche in Spring Data è l'IoC Container. Spring semplifica lo sviluppo creando e iniettando al posto nostro le dipendenze, l'abbiamo visto prima, necessarie le classi della nostra applicazione. Questo avviene sia per i componenti del framework sia per gli oggetti definiti da noi, quindi l'IoC Container è il container dove Spring vive, dove le sue librerie e i suoi oggetti vengono inizializzati, ma viene fatto anche per gli oggetti che creiamo noi, alla stessa maniera. L'ecosistema all'interno del quale le applicazioni Spring vivono viene definito IoC Container. IoC Container si occupa di stanziare gli oggetti, i bins, i pojo, come abbiamo detto prima, dichiarati nel progetto e di reperire, iniettare tutte le dipendenze a esse associati. Le dipendenze possono essere componenti del framework o altri bin dichiarati nel contesto applicativo, quindi vengono utilizzate allo stesso modo sia bin di moduli di Spring di terze parti, moduli di Spring dedicati come Spring Data, sia quelli che dichiariamo noi, che scriviamo noi, vengono comunque iniettati ed inizializzati nello stesso modo all'interno dell'IoC Container. Volevo fare chiarezza anche su Spring Boot, su questa parola che spesso si sente nominare quando sviluppiamo in Spring, molti sviluppatori che all'inizio si approcciano a questo tipo di framework, a questo mondo, mi chiedono ma Spring, Spring Boot, li sento sempre nominare in maniera alternativa ma cos'è Spring Boot? È una nuova versione di Spring perché noto che i vecchi progettano tutti i Spring ma quelli nuovi spesso o la maggior parte sono i Spring Boot. La risposta breve a questa domanda è no, Spring Boot non è una nuova versione di Spring, di fatto Spring Boot è Spring, è una sorta di sovrastruttura che semplifica alcuni aspetti che abbiamo citato prima di Spring. Andiamo a vedere quali. Spring Boot è un progetto Spring che ha lo scopo di rendere più semplice lo sviluppo e l'esecuzione di applicazioni Spring. Un'applicazione Spring può richiedere una gran quantità di metadati di configurazione. Abbiamo visto che era uno dei contro di Spring. Spring Boot semplifica lo sviluppo delle applicazioni effettuando una configurazione automatica come è possibile ovviamente sulla base di valori di default intelligenti. Cioè Spring Boot è un progetto e una sovrastruttura di Spring creata proprio per ovviare a quel problema che dicevamo all'inizio quindi quel contro che è la gran quantità di configurazioni necessarie anche solo per far partire un applicativo senza nessuna applicazione all'interno solo per far partire il container di base. Spring Boot come lo fa? Ovviamente lo fa in maniera automatica basandosi su dei default convenzionali su dei default che solitamente in quest'ambito o per il tipo di applicazione scelta vengono utilizzati comunemente posso comunque in ogni momento solo scriverli qualsiasi default di Spring Boot è comunque configurabile in uno delle tre modi che abbiamo citato prima quindi con XML una notazione o una classe Java un Spring Boot un'applicazione di Spring Boot richiede di solito una configurazione minima spesso in applicazioni che ho sviluppato io di Spring Boot sono bastate davvero poche righe di configurazione schiacciare il bottone di start e l'applicazione era già pronta up and running utilizza un approccio che viene definito opinionated cioè vuol dire convenzionale basato su opinioni e convenzioni proprie quindi come dicevo prima in base a ciò che utilizziamo viene impostato un default che viene considerato quello più logico in quel contesto nulla vieta come dicevamo che le scelte di default siano sovrascritte quindi se noi abbiamo un contesto specifico che va molto lontano dalla media di utilizzo di quel modulo possiamo comunque sovrascriverlo e qualsiasi aspetto qualsiasi di queste proprietà possono essere cambiate ed adattate alle nostre esigenze il risultato con Spring Boot quindi è un'applicazione stand alone un jar file che al suo interno ha già un embedded server di default è Tomcat quindi quello che dicevo prima spesso quando noi lanciamo un'applicazione Spring dobbiamo prima di lanciarla preoccuparci di quale server girerà come sarà configurato configurare il server assicurarci che sia anche quello appena running prima di fare il deploy beh con questo Spring Boot non ci interessa non ci serve più perché all'interno del jar file proprio all'interno del prodotto dell'artefatto della nostra build c'è già un server c'è già di default home che è tema comunque modificabile quindi di fatto devo solamente avviare il mio jar file e ho l'applicazione che già funziona come dicevo non si ha più bisogno di configurare un server container come Tomcat o JBoss o WebSphere o WebLodge qualunque esso sia perché è già all'interno del mio applicativo questo comporta non il mio vantaggio in risparmio di tempo ma anche nella scalabilità come dicevo prima non ho più bisogno di configurare nessun server nel caso io ne abbia bisogno posso comunque farlo se ad esempio la mia applicazione convive con altri applicativi all'interno magari di un'ir file o comunque di un applicativo complesso posso scegliere di non utilizzare Spring Boot utilizzare Spring e produrre solamente un artefatto per poi venire deployare da terze parti ma se io di questo non ho bisogno con Spring Boot ho risolto il mio problema non devo preoccuparmi di cose che non mi servono in questo contesto e questo dà ovviamente anche un grosso vantaggio in termini di scalabilità perché pensiamo ad esempio in un'architettura a microservizi solitamente abbiamo architettura a microservizi con Spring Boot per quale motivo? proprio perché abbiamo tutti i embedded server uguali posso tirare su n istanze dello stesso applicativo da avere un poco tempo semplicemente solo configurando una porta diversa per ogni applicativo se sono sulla stessa macchina o addirittura magari ho un applicativo a microservizi gestito con Docker e l'applicazione è di fatto la stessa devo solo creare più istanze del mio Docker file qui abbiamo un diagramma dei progetti Spring principali quindi in basso come un diagramma che abbiamo visto all'inizio solamente del core ad essere aggruppato in un'unica riga abbiamo lo Spring Frame con solamente il core che comprende la parte di data web l'expand oriental programma il core l'IoC più su vediamo tutti i moduli a disposizione qui vediamo sempre Spring LDAP Spring Data quello che vedremo oggi ma anche Spring Web Service Spring Batch come dicevo non è solo Enterprise personalmente ho sviluppato anche applicazioni Spring che erano totalmente stand alone che gestivano tramite Spring Batch solamente dei job ripetibili schedulati semplicemente tramite questo modulo Spring Session Integration sopra trasversalmente a tutti abbiamo Spring Boot che come vediamo come abbiamo visto non è un vero e proprio modulo a parte ma è un modo diverso di gestire lo startup e la pacchettizzazione di Spring abbiamo anche altri moduli come ad esempio Spring Cloud per la gestione sul cloud non ne parleremo oggi di fatto ogni modulo potrebbe essere il soggetto di un talk questo poi lo potremo vedere più avanti se è un argomento interessante l'ultimo strumento che volevo vedere di Spring Boot che può essere interessante per chi si approccia a questo nuovo modo di programmare è lo Spring Initializer abbiamo detto che con Spring Boot riduciamo tantissimo comprimiamo tanto i tempi di startup di un progetto con Spring Initializer possiamo dare un ulteriore boost a questo Spring Initializer è un servizio di fatto non è neanche un modulo che permette di generare un progetto Spring Boot preconfigurato specificando i moduli di cui si ha bisogno supportato da tutti i principali ambienti di sviluppo di Java quindi da Eclipse da Spring Toolsuit che di fatto è un ID Eclipse modificato con degli add-on specifici per Spring Intelligene la versione Ultimate NetBeans Visual Studio Code hanno tutti questi un plugin che supporta Spring Initializer e c'è anche una pagina web per utilizzare questo servizio quindi se voglio farlo in maniera asincrona rispetto al mio momento di sviluppo cosa fa di fatto? Possiamo vedere uno screenshot ad esempio di questo servizio definisco il tipo di gestore di dipendenza che voglio quindi Maven o Gradle che sono i due supportati di default da Spring scelgo il linguaggio Spring supporta anche Kotlin, Groovy oltre a Java la versione di Spring Boot i metadata project quindi il nome del gruppo dell'artefatto il nome del mio progetto una breve descrizione il package di base di root del mio progetto il packaging se voglio un jar o un war quindi un jar archivo un web archivo la versione del JDK sono supportate di solito le ultime tre LTS Long Term Support in questo caso quindi la 8 la 11 e la recentemente uscita 17 sulla destra schiaccio su un bottone Add Dependencies dove scelgo quali librerie di terze parti quali moduli quali progetti di Spring inserire nel mio progetto Spring Boot a questo punto mi basta solo schiacciare il bottone Generate e scarico immediatamente uno zip file che ha dentro l'intero progetto già pronto quindi solamente effettuare uno start e il progetto funziona di fatto riduciamo ancora di più a pochi minuti il processo di start up e di costruzione della configurazione del progetto ci sono molti altri aspetti di Spring che non tratteremo oggi per brevità anche perché mi piaceva fare un talk su Spring Data che era un argomento un po' più nuovo e un po' più di interesse ma che consiglio a tutti i programmatori che si approcciano a questo framework di considerare di studiare almeno di dare un'occhiata che è l'aspetto oriented programming cessione delle transazioni i metodi di configurazione li abbiamo visti brevemente tramite XML Notation e Java merita davvero la pena considerarli tutti e tre conoscerli per capire i pro e i contro e scegliere ogni volta quello giusto quello più adatto al contesto la testing automation che come ho detto è molto importante molto supportata e da sola meriterebbe comunque un talk e ovviamente molti altri che per brevità non tratteremo oggi andiamo all'argomento principale quindi Spring Data quindi cos'è Spring Data Spring Data è un progetto nato con l'obiettivo di fornire un modello standard per l'implementazione del Data Access Layer all'interno di un progetto Spring l'esigenza che spesso abbiamo su tutti i progetti di dover accedere ai dati in qualche modo in maniera univoca dentro Spring viene risolta con Spring Data Spring Data definisce un set di API indipendente dalla sorgente dati utilizzata ha tante key features Spring Data le vedremo adesso o almeno ne vedremo alcune ma quella che davvero distacca dagli altri che è la più importante a mio avviso è proprio questo l'indipendenza dalla sorgente dei dati cioè io posso scrivere e utilizzare un set di API senza preoccuparmi del database che vado ad utilizzare posso sempre sfruttare le peculiarità di ogni database ma un programmatore che conosce Spring Data virtualmente potrebbe scrivere accessi ai dati diversi senza quasi neanche conoscerli vediamo in che modo il giorno d'oggi ci troviamo spesso a dover interagire con diversi tipi di database non solo relazionali ecco che questo è un altro punto di forza di Spring Data che vedremo oggi abbiamo una varietà di data store inclusi database no SQL come EmocoDB o Cassandra oltre a soluzioni per Big Data come Adobe quindi davvero oggi in un'applicazione Enterprise abbiamo un'eterogeneità di database molto vasta Spring Data fornisce un livello di astrazione comune per archivare e recuperare dati da un data store questo è l'imica la necessità di connettersi e interagire in modo diverso con diversi tipi di database tale astrazione permettono quindi di connettersi allo stesso modo a database relazionale e non consente di passare facilmente da un data store all'altro quindi come dicevamo il vero punto di forza di Spring Data oltre a tutta una serie di funzionalità che ci facilitano la vita nel momento in cui dobbiamo accedere ai dati sia per archiviarli o per leggerli è proprio il fatto di darci un approccio comune un approccio unificato a non solo database diversi relazionali ma anche database non relazionali quindi proprio a strutture dati completamente differenti quali possono essere non so quelli di MongoDB che sono database gestiti a documenti quindi non più tabelle relazioni o ad upo redis addirittura dove abbiamo delle strutture dati con chiave valore quindi neanche molto strutturate una volta imparato a utilizzare Spring Data noi abbiamo uno strumento univoco per fare tutto questo anche Spring Data ha dei suoi sottomoduli uno per gestire protocolli e database diversi anche qui sono davvero tantissimi abbiamo Spring Data JDBC per l'accesso diretto al database quello ne abbiamo bisogno JPA lo vediamo più avanti nel dettaglio LDAP per un accesso gerarchico ai dati MongoDB Redis REST Cassandra anche database di tipo un po' diverso c'è accesso ai dati ad esempio c'è un supporto per Apache Solar o Elasticsearch quindi se dobbiamo inserire o recuperare le dati su degli indicizzatori Spring Data ha un modulo adatto anche per quello database molto diversi anche come Neo4j database a grafo quindi un graph database Apache a duplo l'abbiamo detto prima per la gestione di Big Data e tanti altri li trovate tutti comunque al link spring.io slash project slash springdata quindi l'idea di Spring Data come quella di Spring è utilizzare questo framework per l'accesso ai dati avendo al 99% un modulo dedicato ad hoc per il tipo di database a cui devo accedere abbiamo anche ad esempio il modulo Spring Data REST per l'accesso a API REST come data layer o anche quello che diceva prima Redis vediamo i livelli di astrazione di Spring che ha utilizzato Spring Data e anche JPA prima sa che questi hanno molti in comune oltre alla gestione di database relazionali non relazionali freniamoci per un attimo alla gestione dei relazionali abbiamo già di fatto un modulo di astrazione abbiamo JDBC per l'accesso diretto al database abbiamo utilizzato tanto per accedere a database relazionali di ogni tipo già da solo tramite diversi drive ci permette di utilizzare SQL, Postgres Oracle Database sopra il JDBC è già stato costruito qualcosa che di fatto fa già una parte delle cose che fa Spring Data che è JPA che è la specifica di Java per l'accesso a tutti i database relazionali ma il vero punto di forza come dicevo prima di Spring Data perché ho bisogno di quest'altro layer di astrazione perché non solo posso fare tutto ciò che fa JPA e lo vedremo tra poco ma posso fare le stesse cose anche su database completamente diversi non relazionali su database a documento database a grafo su indicizzatori quindi se io riesco a prendere come programmare in JPA di fatto mi manca ancora una grossa parte del mercato dei database mentre invece utilizzando Spring Data apprendo i stessi principi di programmazione di JPA ma in più posso utilizzarli anche su database molto diversi quindi quest'ulteriore livello di astrazione può essere visto non come un'altra complessità ma semplicemente in un modo univoco un JPA per tutti i database ma cos'è JPA? l'ho citato spesso magari non tutti lo conoscono l'acronimo di Java Persistent EPA è una specifica Java per la gestione della persistenza su database relazionali quindi esclusivamente relazionali le sue caratteristiche principali è che fornisce una mappatura tra classi Java i tabelli del database quindi utilizza la tecnica del ORM Object Relation Mapping fornisce un linguaggio per effettuare delle query SQL ma in maniera standard per tutti i database che è chiamato JPQL Java Persistent Query Language quindi magari l'SQL sia comunque standard ma sappiamo che ci sono delle keyword delle specificità per ogni database relazionale JPQL tramite JPA ci permette di avere delle query standard quindi quello che fa Spring Data però su database relazionali in maniera totalmente indipendente terza key feature di JPA è che fornisce delle API per la gestione e manipolazione degli oggetti Java che mappano le tabelle relazioni quindi un po' come fa Spring Data appunto ci permette di avere un metodo unico una modalità unificata per la manipolazione degli oggetti su tutti i database relazionali Spring Data JPA IberNet qual è la differenza? abbiamo detto che JPA è una specifica quindi ha bisogno di un'implementazione IberNet non è JPA IberNet è un'implementazione di JPA che in gergo viene definito un provider quando utilizzo JPA non devo usare per forza IberNet potrei usarne anche un altro provider ad esempio Eclipse Link ma IberNet è il default di Spring e di fatto è uno dei più conosciuti quindi nello stack di utilizzo nel runtime stack abbiamo il JPA provider che in nostro caso è IberNet poi abbiamo il layer di Spring sul suo layer common quindi le modalità e le funzionalità che ho per tutti i database di Spring che si appoggiano a JPA di fatto Spring quando utilizza un database relazionale si appoggia già alle specifiche JPA estendendole con delle funzionalità aggiuntive che vedremo con degli esempi e poi abbiamo il modulo specifico quindi uno stack relazionale di Spring Data JPA vediamo qualche dettaglio qualche esempio di codice delle differenze di cosa ci dà di più perché devo usare Spring Data allora e non utilizzare semplicemente il JPA oltre al fatto che ovviamente mi permette di accedere a database che non sono relazionali anche nell'utilizzo di database relazionali il JPA chi le ha utilizzato introduce molta duplicazione del codice di fatto io per qui ho portato due esempi di due entità per due entità diverse passport e students istanzio l'entity manager e questo devo farlo per tutte le entità ho delle operazioni ripetitive la get la create l'update la delete che di fatto faccio per quasi tutti gli oggetti quindi per due entità devo scrivere 20 linee di codice in cui 10 di fatto sono quasi duplicate questo con spring data si riduce moltissimo 20 linee di codice possiamo farle in 4 vediamo quali sono le differenze prima di tutto con spring data ciò che facciamo è l'utilizzo di alcuni repository che sono già scritti già implementati già a nostra disposizione dal framework un'altra cosa che possiamo dotare è che qui ho utilizzato un'interfaccia non una classe le interfacce in java non hanno logica di business quindi di fatto io non devo dichiarare alcuna logica faccio solo delle dichiarazioni di classi e metodi ed è poi il framework spring data che crea dinamicamente la logica di business e la inietta nelle mie classi quindi in questo caso ho semplicemente esteso una code repository quindi un repository di creation read, update and delete ho specificato l'oggetto l'entità student e poi ho specificato il tipo della chiave primaria in questo caso long quindi in 4 righe ho fatto quello che prima mi richiedeva 20 righe riducendo tantissimo la duplicazione del codice che come sappiamo è sempre un problema nella gestione delle applicazioni diamo un'occhiata un po' più approfondita a questo repository ce ne sono altri ne vedremo qualcuno ma ce ne sono tanti altri in spring data il repository di base è uno di quelli più utilizzati il repository ci dà già una serie di metodi per la gestione e la manipolazione dei dati il save per la creazione delle entità il fund by id quindi per cercare in maniera univoca un record grazie al suo id l'exist by id che fa di fatto quello che fa il find ma in maniera più performante ritornando un booleano true false per l'esistenza di quel record il find all per prendere tutti i dati di una tabella o il delete by id per cancellarlo il count e ce ne sono vari altri anche questo è una terete che è un'interfaccia quindi anche al suo interno spring data utilizza lo stesso paragonal che utilizziamo noi per creare le nostre classi quindi il repository è un'interfaccia che dichiara i suoi metodi che poi il framework in maniera dinamica implementa di fatto poi crude repository come tutti gli altri repository di spring data estende repository che è una tecnica che possiamo utilizzare anche noi se non abbiamo bisogno di queste feature di queste azioni sui record ma magari vogliamo implementarne alcune custom questo è un altro tipo di repository importante che volevo farvi notare il pagination and sorting repository che come vedete estende il repository quindi ne eredita tutte le caratteristiche ma ne aggiunge due molto importanti la paginazione e l'ordinamento che sono due esigenze che spessissimo ci vengono sottoposte nelle nostre applicazioni quindi tramite due metodi aggiuntivi il find all che accetta un oggetto sort in cui è possibile definire praticamente qualsiasi tipo di ordinamento ascendente discendente multiplo con tutti gli attributi custom la nostra tabella la nostra identità ci permette quindi di fare una query ordinata senza scrivere una riga di codici ma neanche una query fino adesso in tutte le nostre classi l'avete notato non c'è SQL di fatto io potrei anche non conoscere le SQL e tramite questi metodi fare delle query sul database altro metodo importante è il find all call pageball che permette di gestire la paginazione quindi posso gestire le pagine variabili avanzamento arretramento ultima pagina dimensione delle pagine le pagine previste tutto quello che facciamo normalmente in questo tipo di operazioni un'altra feature molto importante di Spring Data che non ha JPA e che è comunque trasversale non solo a database reazionali ma a tutti i tipi di database di Spring Data è il query creation tramite i nomi dei metodi quindi come posso fare io le query in Spring Data questo è il metodo più semplice di fatto estendo come abbiamo visto con l'interfaccia l'interfaccia repository ed ho già un repository attivo crea un metodo che tramite il suo nome e delle keyword specifiche genera una query in maniera dinamica vediamo un esempio il primo metodo find by che utilizza questa keyword email address è il nome dell'attributo and è un operatore logico e last name è un altro attributo quindi semplicemente scrivendo questa riga di codice quindi scrivendo questo metodo in l'interfaccia di fatto a runtime Spring Data inietta la logica necessaria per fare una query che cerca tutti i record dell'entità persona che hanno l'indirizzo email e in end il last name quindi il cognome come quelli introdotti nei parametri del metodo quindi tutto ciò di cui ho bisogno è solo questo per fare una query è semplicemente una riga il nome del metodo dal nome del metodo viene evinta la query ci sono tante parole chiave supportate quindi vediamo qualcuna c'è il find by con operatori logici e campi find distinct utilizza quindi un ritorno univoco del record tramite la parola chiave distinct c'è anche l'ignore case quindi se voglio fare una ricerca insensibile al case quindi solo per cognome qualsiasi sia il suo case maiuscolo o minuscolo posso anche utilizzare l'ignore case parziale quindi voglio cercare tutte le persone che hanno un cognome di un certo tipo e solo il nome deve ignorare il case insomma le combinazioni sono diverse supporta anche l'ordinamento quindi nel nome del metodo posso inserire cosa cercare e in che ordine come vediamo un strumento molto potente che ci permette di risparmiare un sacco di tempo in scrittura di codice e soprattutto può uniformare la conoscenza avendo un team di sviluppatori che conoscono Spring Data e non conoscono magari molto bene o per nulla le SQL grazie a queste funzionalità possono già sviluppare un'applicazione quasi completa certo molti saranno pensando che soprattutto ho fatto progetti di questo tipo o data access layer arriverà sempre il momento in cui ho bisogno di una query custom questo comunque non è un problema non è l'unico modo di definire una query in Spring Data posso comunque definire query in SQL custom sfruttando magari delle specifiche keyword o funzionalità del database è solamente un metodo in più un modo in più che abbiamo che JPA o le applicazioni in Java normale non hanno un'altra delle funzionalità che abbiamo su Spring Data sono le limit query result quindi se voglio solamente una parte dei risultati ad esempio non so il primo risultato di questa query sempre perché è una funzionalità che ne ha bisogno o magari i primi 10 risultati o i primi 3 paginati posso farlo tramite queste due keyword first o top scusate grazie a queste due keyword posso prendere i primi n risultati già dichiarati nel metodo quindi i primi 10 risultati basta inserire find first ten oppure find top three oppure find first ten questo genera già un risultato consistente senza scrivere null'altro questa è l'unica cosa che devo scrivere nella classe qui possiamo vedere un elenco di tutte le keyword supportate abbiamo find by read by get by query by search by stream by che sono di fatto sinonimi e cambiano solamente i tipi di ritorno c'è l'exist che abbiamo visto prima per capire se un record è presente o meno e torna un booleano il count by per fare l'account c'è anche il delete by il remove by per fare le delete del remove condizionali forse il top l'abbiamo visto adesso e il distinct oltre a questo nelle query quindi nella dichiarazione di query con il nome dei metodi abbiamo anche gli operatori logici sono davvero tanti sono praticamente tutti gli operatori logici che abbiamo a disposizione in un database sulla colonna di sinistra abbiamo l'operatore logico quindi and or after e sulla destra vediamo la keyword expression cioè ciò che dobbiamo scrivere noi nel nome del betono per ottenere questa funzione della query and or is after before containing come dicevo abbiamo praticamente supportati quasi tutti un'altra funzionalità interessante e importante di Spring Data è il property expression fino adesso abbiamo visto gli esempi che definivano solamente query con dei tipi semplici di dati cioè se io in input una stringa un intero ma cosa succede se io magari nel mio oggetto nella mia entità devo cercare una proprietà annidata in questo caso ho fatto l'esempio di un'entità che si chiama person che a sua volta è una proprietà che si chiama address che a sua volta è un'altra proprietà che si chiama zip code beh anche questo è gestito semplicemente utilizzando il camel case nel nome del metodo posso cercare un find by address zip code e di fatto l'algoritmo di Spring Data prenderà l'oggetto persona cercherà una proprietà che si chiama address al suo interno cercherà una proprietà che si chiama zip code e a quella assegnerà il valore di zip code all'interno del parametro e con questo farà la query se ci pensate questo in realtà come algoritmo potrebbe generare delle ambiguità io di fatto potrei avere magari un oggetto person che oltre ad avere un altro oggetto che si chiama address anche una proprietà che si chiama address zip e questo corrisponderebbe esattamente al metodo quindi quale e due potrebbe scegliere c'è un modo in Spring Data per risolvere queste ambiguità ed è utilizzando semplicemente l'underscore quindi se io ho due proprietà person address zip code e person address zip code di fatto mettendo l'underscore nel punto giusto nel punto che mi interessa lì dico dove tagliare la proprietà a Spring Data e sono certo che utilizzerà la proprietà giusta quella che ho scelto io adesso veniamo a un'altra delle key feature di Spring Data quella che diciamo all'inizio quello che diciamo è l'aspetto più importante di Spring Data cioè il supporto a database indistintamente SQL e non SQL relazionali e non per questi esempi ho scelto tre database molto diversi modulo JPA quindi qui potete immaginare l'utilizzo di un qualsiasi database relazionale SQL MariaDB Oracle Database qualsiasi come database non relazionale ho scelto MongoDB che è un documento di database molto noto quasi tutti lo conoscerete e come database non relazionale ma di tipo diverso ho scelto Neo4j che è un database a grafo un graph database quindi database che solitamente si utilizza più per connessioni dove le relazioni sono al centro del nostro applicativo mi spiego meglio chi lo conosce lo sa bene viene utilizzato ad esempio nel social network mentre nel JPA nei database relazionali abbiamo delle tabelle e relazioni sono espresse ma poi calcolate a runtime nei database a grafo invece la relazione è di fatto archiviata e persistita nel database quindi questo rende molto più veloce la percorrenza delle relazioni pensiamo ad esempio che ne so un esempio classico è su Facebook la relazione degli amici o relazione tra like e persona che genera questo like questo solitamente viene espresso con un graph database mentre invece mongodb document read database è più utilizzato in contesti dove non ci interessa tanto la relazione tra gli oggetti che di fatto non viene espressa ma solamente la serie di dati non so serie di dati temporali come le telemetrie sono un classico esempio dove si può utilizzare mongodb ora andiamo a vedere in questi tre database tre esempi così differenti come Spring Data risolve il problema ad esempio dell'object datastore mapping come facciamo a mappare i dati come potete vedere l'approccio è comune di fatto ho un object mapping che è molto simile sia sui database relazionali sia su quelli a documento che su quelli a grafo definisco la classe definisco l'entità faccio un mapping tra i tipi come vedete sono riusciti a utilizzare quasi sempre lo stesso tipo java per mappare un tipo diverso di database ciò che cambia chiaramente sono le annotazioni ogni modulo Spring Data modulo Spring Data JPA modulo Spring Data MongoDB o Spring Data Neo4j hanno annotazioni diverse che esprimono concetti diversi nel JPA o all'entità MongoDB avrò dei documenti mentre i Neo4j ho dei nodi di questi poi in alcuni casi è necessario annotare degli attributi e altri meno in generale in tutti e tre i casi se la nostra proprietà ha lo stesso nome di quella sul database non devo neanche annotarla di fatto tramite la reflection la introspection Java riesce già a riconoscere questa corrispondenza se però per qualche motivo bisogna che l'attributo sul database abbia un nome diverso nella mia applicazione posso utilizzare un'entità e una annotazione come in JPA la notazione column per dare il nome della colonna o in MongoDB la notazione field per fare questo match vengono supportati anche le referenze ad altri oggetti malgrado come abbiamo detto le relazioni ce l'abbia solo il database relazionale solo JPA comunque anche su MongoDB e Neo4j posso definire le relazioni in un certo modo su JPA definisco ad esempio un sotto oggetto i ruoli dell'utente i ruoli della persona con l'attributo one to many quindi sfrutto la proprietà del database relazionale one to many per definire questa relazione in MongoDB abbiamo detto è un database a documenti non esistono relazioni quindi di fatto io ho solamente un oggetto che può avere una lista di sotto oggetti io non ho bisogno di annotarlo perché questa relazione non avrà mai un tipo diverso che non sia diretto non ho bisogno neanche di esprimerla su Neo4j su database a grafo anche lì posso esprimere relazioni di tipo as posso esprimere la direzione in questo caso outgoing ma come noterete tutte e tre le dichiarazioni sono identiche cambio solo notazione quindi la dichiarazione di referenza di altri oggetti è uguale repository JPA l'utilizzo dei repository vediamo che differenze abbiamo l'utilizzo dei repository in questi tre casi JPA database relazionali abbiamo innanzitutto il supporto a SQL quindi come abbiamo detto abbiamo una definizione repository standard in questo caso estendo JPA repository che mi dà tutto quello che ci dà il CRUD repository più qualche funzionalità in più che solo JPA come ad esempio il flash dei dati definisco prendiamo un metodo di esempio il find by name come abbiamo detto prima questa è l'unica riga che ci serve per fare la query la definizione in nome qui ho aggiunto un esempio di una query custom se per qualche motivo ho bisogno di fare una query che non viene soddisfatta dalle keyword che Spring Data ci mette a disposizione posso comunque esprimerla nel caso di JPA uso la notazione query che di fatto è la stessa che c'è nella specifica di JPA standard di Java definisco la mia query all'interno del metodo e occhio questa è una differenza importante nel modulo JPA di Spring Data io posso definire la query all'interno del metodo find quindi dove seguo la query in JPA standard devo definire la query dentro l'entità questo è un grosso vantaggio perché comunque io ho tutte le query in un unico punto mentre in JPA posso un po' perdermi quando ho delle query definite nel mio service nel mio accesso DAO e altre query che sono definite a livello invece dell'entità vediamo i repositori a graph o graphdb con Neo4j qui c'è il supporto alle cypher query language quindi che è un linguaggio di query che utilizzano database a grafo come vedete l'unica differenza è estendo un tipo diverso di repository in questo caso il graph repository il find by login in questo caso al posto del find by name è fatto nello stesso modo utilizzo la keyword find by e il nome dell'attributo e ho aggiunto anche qui un esempio di una query specifica non standard quindi posso definire in questo caso non in SQL in cypher query language la query custom che voglio utilizzare se magari non è coperta dalle keyword di spring data ma di fatto l'approccio al repository a fare le query è lo stesso lo stesso un database relazionale malgrado questo database di relazionale non abbia molto terzo esempio esempio di repository con mungodb un deposito a documenti qui mi sono concentrato più sulle peculiarità di un database a documenti di fatto potrei fare anche qui una query con un find by name e cercare il mio documento per nome ma quello che posso fare è cercare grazie al modulo spring data mongodb delle query geospaziali che sono già supportate nativamente da mongodb e lo posso sfruttare piuttosto che rimplementarne una funzionalità che già è nel database oltre ad avere questo approccio standard da tutti i database posso sempre utilizzarne le funzionalità specifiche quindi ora le geospaziali posso utilizzare un find by position within quindi definire un circle un cerchio di ricerca oppure tramite un box quindi dare due punti cardinali definire tutti i punti e cercare quelli che sono all'interno o position near quindi tutte le posizioni che sono vicino a un punto in un raggio di distanza definito quindi malgrado spring data ci dia comunque un modo comune di accedere a database molto diversi non ci preclude la possibilità di utilizzare le specificità di ogni DB che ci possono facilitare la vita come nel caso di mongodb fare delle ricerche su coordinate geospaziali come dicevo prima e come dicevo all'inizio spring in generale ci dà molta flessibilità molta libertà di programmazione spring data facendo parte dello stesso ecosistema non è da meno quindi posso utilizzare anche dei repositori misti in questo caso il limite è solo la creatività poi dello sviluppatore mettiamo che abbia un'esigenza specifica molto particolare di avere un oggetto che deve essere persistito su database diversi ma è di fatto un'entità che ha gli stessi attributi è rappresentata nello stesso modo su questi database anche non dello stesso tipo qui vediamo un database relazionale e un database a documento un mongodb posso utilizzare delle notazioni miste quindi di fatto creo due repositori diversi uno fatto con gpa che estende gpa repository un altro che estende mongodb repository nella mia entità persona metto due entità diverse miste entity e document quindi la definisco sia come entità relazionale sia come document di mongodb e di fatto posso usare la stessa entità per gestire la persistenza su questi due database così diversi quindi anche questo è un altro vantaggio che posso avere per evitare duplicazione del codice e semplificare il flusso della gestione della mia applicazione quindi i vantaggi principali che abbiamo visto nell'utilizzo di questi repository sono una minore duplicazione del codice quindi posso fare le stesse cose con molte meno righe e non duplicarle le query possono essere definite direttamente sul metodo finder quindi rispetto il gpa standard o altri tipi di framework definisco le query custom nel caso in abbia bisogno all'interno del metodo finder e un altro vantaggio che posso avere in più anzi che sicuramente ho rispetto al gpa e che le query gpql sono compilate allo startup in gpa le query sono compilate la prima volta che le eseguo quindi se io magari ho fatto un errore di sintassi non me ne accorgo fino a quando non faccio i test fino a quando non arrivo ad eseguirla con spring data questo si velocizza perché quando faccio lo startup quando faccio il run dell'applicazione se c'è un problema di sintassi me ne accorgo subito mi viene segnalato immediatamente ci sono molti altri vantaggi di spring data ma per motivi di tempo sono già le sette non li ho inclusi in questo talk spero che di aver trattato almeno le feature principali che vi sia chiaro l'utilizzo dei vantaggi e svantaggi principali di questo framework e di essere riuscito a dare almeno una visione di insieme dei scenari di utilizzo tipici o comunque futuribili di questo tipo applicativo se avete domande fatemi sapere passo la parola a te Marco grazie mille Raffaele è stato un talk molto interessante molto ricco di contenuti che hai spiegato bene io sinceramente non conoscevo spring data anche perché diciamo ho lasciato java poco dopo l'università quindi non conosco diciamo il linguaggio in modo professionale io utilizzo .NET c-sharp e ho trovato delle similarità con l'entity framework e link non so se tu conosci c-sharp hai già sentito ancora parlare di entity framework non lo conosco ma sì ne ho sentito parlare ok sai fare un paragone poi dopo magari non lo so ci possiamo confrontare su questo argomento bene non conoscendolo non saprei fare un paragone adatto però di fatto immagino che i pattern utilizzati alla base che siano ad esempio la tecnica del object oriented map dell'object relation mapping sia la stessa sì immagino che però la differenza di base è che probabilmente con .net con c-sharp non so se siano utilizzabili questi paradigmi anche su database non relazionari anche su database a documento a grafo o di qualsiasi altro tipo in una diciamo maniera unificata così come lo fa screen data probabilmente no in effetti in effetti diciamo non sono sicuro di controllare però probabilmente no magari qualcuno dalla chat ci viene in soccorso e un'altra differenza su c-sharp si utilizza link che diciamo un modo per operare interrogare le liste quindi può essere utilizzato sia sulle liste di oggetti in modo generico diciamo che anche a tutti gli effetti poi viene utilizzato per interrogare database e lì si va sulla concatenazione quindi di operazioni quindi posso fare una select un find eccetera eccetera e non lo so diciamo visto così quello che hai presentato mi sembra che può diciamo diventare un po' confusionare forse proprio probabilmente perché non sono abituato a generare le query partendo dal nome del metodo sì come dicevo questo è semplicemente un modo in più che Spring Data ci dà a disposizione nulla vieta che se io per comodità o per esigenza o perché sono abituato in modo diverso possa gestire le query nel modo classico quindi facendo dei DAO che abbiano tutte delle query definite magari perché devo per qualche motivo specifico utilizzare delle feature del database che non sono gestite in maniera trasversale allora sì riutilizzo tutte delle query ma il vantaggio vero ce l'ho in Utilize Spring Data nell'avere uno strumento unico quindi imparato una sola volta utilizzabile su qualsiasi tipo di database quindi non solo è relazionale che io debba interfacciarmi con MongoDB o con che ne so Postgres o piuttosto che Neo4j imparo una sola volta Spring Data e posso fare un'applicazione Java che si interfaccia con questi database in un'unica maniera cosa potevo fare prima? Prima non avevo alternativa che imparare tre modi diversi o tre frame diversi o tre comunque approcci diversi all'accesso di quei dati e trattare quei dati in maniera diversa che so con GDB si avrei dovuto utilizzare gli statement result set concetti che sono strettamente legati ai database relazionali non avrei mai potuto riutilizzare su un database da documenti ad esempio ed avrei dovuto rimparare da zero come invece trattare le query e gli oggetti e le entità su MongoDB in questo modo vi accorcio tanto questo ramp up di apprendimento certo è un grosso vantaggio sì e un'altra domanda io entity framework l'ho utilizzato per certi progetti diciamo con modelli di dati magari piccoli quindi poco complessi mentre ho provato ad utilizzarlo su progetti con modelli di dati un po' più complessi ma alla fine poi dopo non riuscivo cioè definire bene tutte le relazioni alla fine lo trovavo più semplice per lo meno a livello personale andare a fare alla vecchia e quindi non utilizzare anti framework l'hai accennato durante il talk ma tu vedi anche tu vedi questo limite oppure si riesce a fare tutto con questa metodologia sì è comunque un problema che qualsiasi framework di mappatura degli oggetti ha oggettivamente quando ho dei tipi di dati molto molto compressi non sempre riesco a fare in maniera automatica una mappatura ed è proprio il motivo per cui ho messo degli esempi in cui faccio delle query custom in quei casi dove magari non riesco a definire né tramite il query creation by button name né tramite una mappatura automatica degli oggetti una query la scrivo proprio a mano in SQL in vecchia maniera visto che è magari l'unico modo che ho in quel caso di farlo e posso definire anche un tipo di ritorno custom non ho detto che sia un oggetto di entità con Spring Data posso anche definire dei tipi di oggetti che non sono delle entità quindi una query che genera una stringa o piuttosto che un oggetto che non è definito come entità in casi estremi sono eccezioni che posso gestire previste ovviamente dal framework perché molto comuni ti faccio un esempio alcuni applicativi che ho fatto che sono fatto recentemente sono uscito a utilizzare Spring Data su 90% delle query ma c'era sempre quella query di quel report che andava riportata che non era possibile ma pare o comunque era molto complesso e mi è stato più semplice fare una query custom ma ho coperto però il 90% delle query con uno sforzo minimo mi sono dovuto sforzare solamente per quel 10% restante delle query non automatizzabili ok perfetto grazie scusi però io avevo posto la domanda nel modo sbagliato cioè intendevo con l'entità di framework puoi utilizzarlo anche per generare tutto il database quindi le tabelle non le definisci diciamo da SQL per esempio e le genere diciamo attraverso l'entity framework quindi partendo dal modello dei dati io mi riferivo più che alle query alla generazione del database delle tabelle sì beh quindi facendo fare l'inverso partire dall'oggetto per creare il database giusto? esatto sì sì in quei casi lì ci sono dei casi un po' ostici dove la mappatura dei dati quindi il dato nel tuo linguaggio di programmazione che sia su java si sharp o dot net poi scritto sul database non corrisponde esattamente o non sia quello che mi aspetto con spring data posso forzare questa cosa cioè posso dove c'era mappatura automatica dove ho fatto l'esempio magari delle entità in cui mettevo l'annotazione della colonna il nome della colonna posso anche definire il tipo magari posso ritornare su quel punto ecco qui ad esempio sull'esempio del jpa dove abbiamo la colonna string name e c'è l'annotazione column e dico sul database però attenzione che questo oggetto questo attributo name si chiama fn non si chiama name posso anche utilizzare l'attributo type quindi dico questo oggetto questo attributo name sul database non è name è fm qui è string posso definire anche sul database non è string ma è bar chart ma è qualsiasi altra cosa quindi posso forzare questa cosa a livello di entità e questo fa sì che il mio oggetto java in java sia una stringa ma nel database magari normalmente veniva definito come non so nchar invece io lo forzo a var chart un altro tipo che io voglio e così posso generare un database esattamente come lo voglio non è coperto in tutti i casi ci sono comunque dei tipi molto complessi come ad esempio i blob i club che generano sempre dei problemi o altri tipi su database specifici non c'è una copertura del 100% sempre ma comunque mi facilita molto la vita posso anche fare una creazione di un database iniziale per poi fare gli update successivi certo ottimo grazie per le risposte e vediamo se c'è qualche altra domanda dalla chat o qualcuno che vuole intervenire che prendo il microfono ciao a tutti ciao Raffaele buonasera ciao buonasera ciao Luca una domanda forse c'entra poco con quello che stiamo dicendo però mi so posto diciamo una query pur io nel senso che facendo questa strazione va bene va bene tutto bene cioè io senza senza conoscere le sequelle riesco a gestire tutti i dati ma questo poi non influisce per la tua esperienza Raffaele non può influire sulla sulla complessità diciamo dell'estrazione dell'informazione mi spiego meglio cioè se se noi facciamo una serie di richieste sequenziali su un DB ed abbiamo bisogno di velocità e non potrebbe influire negativamente questo fatto di non conoscere in maniera pur avendo tutta una gamma di operatori che ci consentono quindi come hai mostrato tu anche di spacchettare le richieste questo è il mio dubbio cioè l'aumento della complessità nel momento in cui noi completamente non ci preoccupiamo più di quello che è la generazione delle query in SQL o in altro linguaggio che sia di interrogazione DB chiaramente questo è un grossissimo vantaggio per la programmazione però non è che basta di una velocità ecco grazie sì Luca corretto questa è una osservazione corretta di fatto uno dei problemi che si possono generare con questo tipo di approcci sono le performance ovviamente le query generate dinamicamente in maniera automatica non saranno mai ottimizzate come una query che è scritta ad hoc sfruttando magari le funzionalità specifico delle funzioni magari che proprio scritte per le performance di un database è un problema che si affronta spesso lo si può risolvere in vari modi uno di quelli è quello che citavo prima quindi se in uno specifico ambito su una specifica query ho bisogno di più velocità magari una query comune se una query ripetitiva ovviamente ci sono altri pattern di risoluzione può essere delle cache posso utilizzare delle cache di primo o secondo livello di accesso ai dati se questo non è il caso se non sono ripetitive sono comunque diverse potrei scrivere una query custom quindi utilizzare delle funzionalità specifiche del DB scrivendo io a mano la query annotandola e mettendola all'interno del metodo find quindi quello che di solito succede è che questo svantaggio apparente nelle performance viene comunque colmato dall'enorme vantaggio che ho a livello di programmazione che citavi anche tu quindi è una cosa reale comunque affrontabile succede ovviamente solo in casi in cui abbiamo delle strutture di dati molto complesse le strutture di dati semplici questo non è un problema perché la generazione genera delle query praticamente identiche a quelle che scriverebbe magari un database ad amministrato nei casi complessi potrebbe esserci bisogno di un approfondimento ma come dicevo prima nella mia esperienza personale il 90% dei casi o il 90% delle query sono già coperte sono ampiamente performanti in questo caso potrei avere un 10% che magari devo andare a vedere a mano comunque ho solamente perso il mio tempo per il 10% delle query non per il 90% quindi è comunque ottimizzato sia il codice e sia il tempo di programmazione ok grazie ottimo molto bene altre domande? altre curiosità? ok se non ci sono altre domande allora ringrazierei Raffaele è stato un talk molto interessante e grazie per il quello che ci hai raccontato su Spring Data e grazie a tutti per aver partecipato grazie a voi per l'invito e ci vediamo alla prossima alla prossima spero di rivedervi tutti al prossimo incontro di Dexcode portate sempre più gente e anzi se avete anche l'intenzione di partecipare con un talk vostro fate pure una richiesta prima adesso non ho pubblicato probabilmente presentato la slide qui citavo la call for speakers forse non c'era in questa presentazione esatto l'ho dimenticata e se volete comunque contattateci volete proporre un talk potete farlo e ci mettiamo d'accordo per il 2022 potete partecipare come speaker grazie a tutti allora e buona serata grazie buona serata ciao a tutti ciao grazie ciao 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 ciao